Un uomo puntato verso l'alto, impeccabilmente teso al suo miglioramento, può spostare montagne, trovare soluzioni a situazioni apparentemente inessegabili, trasformare le avversità in eventi di ordine superiore. Ricorda, niente è fuori di te, il mondo che vedi e tocchi è solo un effetto. Hai il tuo respiro, vive se sei vivo e muore con il tuo morire. Ogni attimo puoi evolvere o degradare, dipende da te. Ogni tuo pensiero, attitudine, ogni parola o sguardo, la più piccola contrazione del viso, comunica all'universo intero il tuo livello di responsabilità, il tuo grado di libertà. E' questo che ti colloca mirabilmente lì dove sei. E' questo che determina il tuo destino, la tua evoluzione, il tuo ruolo nel teatro dell'esistenza.